ciao uno degli argomenti di cui ho sempre voluto parlare in questo canale è riguardo l'apertura di società in lituania come aprire per esempio una società in lituania e come fare business in lituania allora innanzitutto voi potete venire in lituania e trasferirvi perché siete stati assunti e perché avete trovato un lavoro qui in lituania e questa è una cosa semplicissima basta andare su uno dei tanti siti che vi sono online dove mettono gli annunci fare l'apply e se siete fortunati come di solito la stragrande maggioranza delle persone che per esempio lavorano nel settore del terziario avanzato o dell'information technologies venite contattati da un recruiter e sicuramente se siete bravi vi fanno un'offerta per essere assunti e venire a lavorare in lituania se però avete in mente un vostro business o volete trasferire un vostro business già esistente dall'italia alla lituania è possibile farlo ed è possibile farlo con pochissimi semplici passaggi senza grossi problematiche e soprattutto vedremo con dei grandi vantaggi allora per aprire una società in lituania è molto semplice innanzitutto bisogna avere un'idea bisogna avere un business plan cosa che io raccomando caldamente e dopo di che si può procedere per aprire la società in lituania bisogna presentarsi in lituania con il proprio passaporto non bisogna avere la cittadinanza lituana basta essere cittadini europei si può anche essere cittadini extra europei ma la cosa è leggermente più difficile quindi basta presentare il proprio passaporto avere un notaio e aprire la società per fare questo ci si può rivolgere ad un avvocato che prepara tutta la documentazione o vi sono delle società specializzate che sotto compenso di 400 500 600 euro massimo vi fanno tutte le pratiche burocratiche senza grossi problemi dopodiché voi presentate pagate la fide il notaio che attenzione non è un costo altissimo tipo quali italiani dove per andare dal notaio bisogna fare un mutuo solo per pagare il notaio qui con 400 500 euro pagate tranquillamente un notaio a volte anche meno e aprite la società per aprire la società bisogna avere un nome il nome deve essere univoco non può esserci all'interno della lituania una società con lo stesso nome già aperta quindi voi non potete aprire che so una società col nome coca cola perché esiste già la coca cola company lituania e quindi non potete aprire una società con lo stesso nome e vengono privilegiate le società con i nomi in lituano o in latino quindi voi vedrete per esempio tantissime società che hanno un marchio e poi il vero nome della società che gestiscono e poi il vero nome della società è un nome in lituano vi faccio l'esempio mio della mia società che si chiama solo gusto in realtà solo gusto è il marchio che viene gestito dalla società tics coni che in lituano significa solo gusto quindi ho aperto la società col nome tics coni e poi la società vera gestisce il marchio che si che è solo gusto che ha un nome italiano quindi questo è una pratica molto diffusa lituania si apre una società con un nome lituano e poi c'è un marchio che viene gestito da questa stessa società che poi tra l'altro può anche essere venduto in un successivo momento che ha tutt'altro appeal e magari anche pronunciabile in maniera decente non solo per i lituani dicevo si riserva il nome della società pagando una quota di 15 16 euro se non mi ricordo male il nome viene riservato per sei mesi e dopo di che si hanno sei mesi per aprire effettivamente la società basta andare al notaio fare l'atto notarile e comunicare tutti i parametri al registro centres cioè al centro di registro per le società e la società aperta ovviamente sto parlando di una uab che è l'equivalente della nostra srl qui non vi sono fronzoli allora innanzitutto non esiste la srl individuale la srl non individuale come in italia e cose di questo tipo srl è una srl società responsabilità limitata e può essere formato da una o più persone non vi è la differenza tra società unicapitale non capitale il capitale può essere tranquillamente inferiore al 2500 euro versato ovviamente loro chiedono di versarli il più possibile per capitalizzare all'inizio della società questo è ovvio perché se dovete fare uno start up se non avete soldi è un po difficile start up are quindi partire con la società quindi vi consiglio almeno 2000 2500 euro di di minimo di capitali di versarlo che poi ovviamente potete utilizzare per la vostra attività dal giorno successivo e l'altra cosa interessante è che la società può fare qualsiasi cosa cioè non esiste in lituania un vero oggetto sociale della società come in italia in italia se voi aprite un srl dovete dichiarare in maniera abbastanza dettagliata qual è l'oggetto sociale e quali sono le attività che voi fate in lituania non è così o meglio vi chiedono quali sono le attività che voi andrete a fare ma è solo per fine meramente statistico in realtà quando voi aprite una vostra web una vostra srl in lituania potete tranquillamente fare qualsiasi cose cioè dall'importare computer a materiale di cancelleria a telefonini a macchine automobili motorine e questo tipo fino a tante altre cose eccezione fatta per alcune categorie merceologiche come metalli preziosi le armi il food e i trasporti che necessitano di licenze particolari ovviamente le sapete le capite anche voi quali sono i food per evitare di avvelenare la gente i metalli preziosi perché ovviamente sono metalli preziosi le armi per un noto motivo e i trasporti perché chiaramente non puoi mettere su un camion una persona che non abbia le patenti adeguate ai trasporti fatto stante tutto questo tutto il resto delle attività sono libere e non ci sono grossi problemi io ho avuto nel passato perché facevo il consulente dei clienti che hanno aperto una uab quindi una srl e facevo di tutto dalla consulenza l'importazione di auto motorini cancelleria veramente cose di questo tipo è chiaro che poi comunque la commercialista di solito vi chiede di tenere la contabilità separata quindi se voi fate una cosa una tantum di due o tre lavori contemporaneamente non è un grosso problema ma se poi dovete tenere una contabilità un attimino impegnativa perché vi mettete a fare decine di migliaia di euro di per ogni attività allora la cosa diventa un pochino non tanto sostenibile e vi conviene molto probabilmente aprire una seconda società per l'attività che diventa preponderante l'altra cosa da tenere molto ben presente è che vi serve assolutamente una commercialista è fondamentale qui avere un commercialista o una commercialista di fiducia e qui io devo spendere assolutamente due minuti per chiarire la differenza tra i commercialisti italiani e i commercialisti lituani noi in italia siamo assolutamente nelle mani dei nostri commercialisti siamo abituati ad avere dei commercialisti che sono tutto fare addirittura fin troppo il commercialista viene chiamato per qualsiasi cosa e qualsiasi advice qualsiasi cosa che io devo fare chiedo il commercialista o chiedo all'avvocato qui non è così il commercialista è meramente un contabile o una contabile che ti fa semplicemente la dichiarazione delle fatture in ingresso in uscita tutti i mesi e presenta i documenti agli uffici preposti e fa la tramite tra te e gli uffici preposti perché qui in lituania non è come in italia dove tu non sai mai quando vengono a farti visita per fare un controllo qui ti chiamano prima ti dicono giorno tale verrà a farti un controllo e chiamano la tua commercialista di solito e la tua commercialista ti avvisa detto questo però bisogna stare molto attenti perché prima di tutto come ho detto la commercialista o il commercialista non sanno tutta una serie di cose che invece noi siamo abituati in italia fare in modo di chiedere al commercialista perché sicuramente lo sa per esempio qui se esce una legge nuova che potrebbe farti risparmiare il 10 per cento la commercialista o il commercialista non ti avvisa di questa cosa qua sta a te dover ingaggiare una commercialista buona e brava che possa anche farti da consulente ma questa si fa pagare cioè qui è abbastanza normale avere una fee molto bassa per i lavori di base del commercialista tipo non so 50 euro al mese il costo di un commercialista che però comprende solo la tenuta contabile delle fatture in ingresso in uscita vuoi che la commercialista ti faccia anche da consulente lei ti chiederà altri non so 50 euro al mese al di sopra on top di quello che ti credeva già prima vuoi che ti presenti anche il bilancio a fine anno ti chiederà degli altri soldi all'attre vuoi che ti faccia altre consulenze particolari perché lei è esperto in qualche settore benissimo allora ti chiederà delle altre somme alla fine si pensa magari di risparmiare alla commercialista in lituania costa molto meno che in italia in realtà non è vero allora io consiglio primo di tutto prendere una commercialista abbastanza competente magari che parla un po meno l'italiano o addirittura zero italiano come per esempio la mia commercialista ma parla bene il lituano russo e sappia molto bene come districarsi da tutta la burocrazia lituana che non è così semplice come noi la si possa pensare seconda cosa stare ben attenti che la commercialista di solito ti presenta un conto con i lavori di base da fare e tutto il resto è escluso quindi chiarire subito all'inizio che tipo di commercialista e che tipo di contratto vai a firmare la terza cosa è per chiedere le licenze se dovete chiedere le licenze sono tutte a carico vostro cioè tutti i lavori l'interfacciamento verso la pubblica amministrazione non sono svolti dalla vostra commercialista vi conviene prendervi o qualche consulente esterno magari anche un avvocato che possa fare una cosa del genere o comunque incaricarvi voi in prima persona questo perché in lituania non esiste la figura del commercialista tuttofare chiarito questo aspetto parliamo dei grandi vantaggi dell'aprire una società in lituania prima di tutto la tassazione allora noi siamo abituati in italia ad avere una pressione fiscale che è superiore al 35 e intorno al 40 per cento addirittura anche più qualcuno dice qualcuno parla addirittura del 45 50 per cento io non so quale sia esattamente oggigiorno la tassazione in italia so qual è quella in lituania in lituania se tu hai una società che fa meno di 300 mila euro di fatturato l'anno hai una tassazione del 5 per cento secco se hai una società che fattura più di 300 mila euro l'anno oppure ha più di 20 dipendenti la tassazione massima è del 15 per cento non esistono altre aliquote quindi o 5 o 15 per cento non esistono altre aliquote ok addirittura vi è la possibilità di pagare zero tasse ma lo vedremo in un altro video perché ci sono le free economic zone cioè delle zone dove non si pagano tasse però bisogna fare un investimento da un milione di euro e allora si possono non pagare tasse si possono per dieci anni pagare zero tasse ma lo vedremo in un altro video allora se voi aprite una società e fate meno di 300 mila euro di fatturato la vostra tassazione è del 5 per cento se invece avete o venti o più dipendenti o il vostro turn around il vostro fatturato superi 300 mila euro pagate come massimo il 15 per cento di tasse quindi che voi facciate 20 milioni di euro o 305 mila euro sono sempre il 15 per cento questo grande vantaggio non esistono gli anticipi non esistono gli anticipi degli anticipi degli anticipi delle tasse come in italia dove noi abbiamo l'irap e tutte le varie cose sulla presunzione del fatturato successivo non esiste niente di tutto questo si pagano le tasse solo sugli anni passati ovviamente tu hai incassato quello e allora pagherai quella dopo di che vi è l'iva l'iva è il 21 per cento in lituania non il 22 è il 21 per cento e si paga sempre mensilmente la cosa che io raccomando è di non fare i furbi e di pagare sempre in maniera puntuale l'iva tutti i mesi pagare l'iva è una cosa fondamentale in lituania perché lo stato ha nell'iva uno dei suoi grandi introiti e dei suoi pochi introiti perché le tasse essendo molto basse in lituania l'iva invece è una delle tasse dove loro contano di più quindi se voi avete dei problemi nel pagare l'iva fatelo sapere all'ispettrato delle tasse addirittura ed è una cosa che per me alle prime volte diventava incredibile si può telefonare rispetto alle tasse e si dice signori io non ho i soldi per pagare l'iva può capitare può capitare che i fornitori non ti paghi non ti pagano in ritardo dopodiché si fa un piano di rientro con il signore dell'ispettrato delle tasse e si possono pagare le tasse senza grossi problemi a scaglioni ovviamente non si deve fare come si fa in italia che si dice vabbè io non pago tanto poi arriverà fuori l'ufficiale giudiziario e mi farà qualcosa perché qui queste cose non si fanno perché ti mettono in galera è molto io lo dico in maniera molto onesta ho visto della gente avere dei grossi problemi giudiziari perché si è incasinata come in italia io non pago e poi mi metterò d'accordo no metti d'accordo subito di subito che hai delle difficoltà e loro sono molto di solito comprensivi è chiaro che non puoi come si dice in italia ciurlare nel manico nel senso che non puoi farlo ogni peso spinto questa cosa però può capitare di avere dei problemi tutti gli imprenditori lo sanno se ci si mette d'accordo con l'ufficio delle tasse si può fare un piano di rientro senza nessun problema dopodiché per assumere il personale non ci sono grossi problemi esiste un contratto collettivo del lavoro che è online si può scaricare non esiste dover andare da un consulente del lavoro per farsi fare le buste paga perché le buste paga vengono elaborati direttamente dalla commercialista anche qui sotto pagamento ma la commercialista fa tutto redige il contratto standard a meno che voi non dobbiate fare un contratto non standard a quel punto deve intervenire un avvocato ma di solito un contratto standard è sufficiente lo si scarica da internet lo si compila lo si fa doppia firma voi che siete il datore di lavoro e l'impiegato in un giorno lavorativo l'impiegato può iniziare a lavorare ovviamente io dico un giorno lavorativo in realtà potrebbero essere due o tre semplice senza nessun fronzolo in lituania esiste un salario minimo quindi voi dovete rispettare il salario minimo che viene prescritto per legge salario minimo è stabilito per legge sia per 40 ore attive sia per il part time cioè 20 ore lavorative e di solito cambia quindi io non vi posso dire in questo momento qual è il salario minimo mi sembra che sia 550 euro lordi mensili che è il salario proprio minimo per coloro i quali fanno proprio il cameriere da strapazze ma andate sui siti predisposti del ministero per sapere qual è in questo momento in cui vedete il video il salario minimo in lituania negli ultimi tre anni hanno cambiato già tre quattro volte salario minimo quindi per questo non voglio dirvi una cosa per un altro esiste un salario minimo quindi voi dovete assumere una persona e non potete dargli meno del salario minimo ok e poi però esistono tutta una serie di possibilità di assumere le persone prima di tutto esistono tre mesi di quelli che vengono chiamati probation period cioè un periodo di prova questo per tutti e a tutti i livelli quando tu anche cambi lavoro all'interno della lituania hai tre mesi in cui il tuo dottor di lavoro e tu verso il tuo dottor di lavoro potete rescindere il contratto in due giorni lavorativi cioè all'interno di questi due mesi tu puoi dire al tuo dipendente guarda non vai bene ci ho ripensato e in due giorni quello sta a casa stessa cosa tu puoi dire al tuo dottor di lavoro guarda pensavo che il lavoro che mi hai dato fosse in un certo modo non è più non è quello che io pensavo e quindi me ne sto a casa e in due giorni tu stai a casa e dai dimissioni senza nessun problema senza nessun patema d'animo per nessuno e senza nessun spargimento di sangue o altre cose dopo di che passati tre mesi la persona viene assunta diventa un lavoratore a tutti gli effetti a tempo di solito indeterminato qui in lituania sono orari i casi in cui ti fanno i contratti progetto può capitare ovviamente però non è come in italia dove il contratto progetto è sempre un contratto progetto viene procrastinato uno dopo l'altro qui il contratto progetto viene pagato molto di più del contratto a lungo periodo questo perché perché è a tempo determinato quindi se io ho uno stipendio di 1500 euro per un contratto a tempo determinato se vuoi che io faccia lo stesso lavoro per un periodo solo di un anno per esempio invece che 1500 euro al mese mi dai magari 1800 o 2000 euro al mese perché sappiamo già entrambi che tu non mi garantirai il proseguio del lavoro nel futuro quindi io devo essere remunerato di più perché mi assumo un rischio maggiore quindi vedete che il mercato del lavoro è in maniera leggermente diverso rispetto a quello italiano tasse le tasse sui dividendi per esempio valono dallo 0 al 15 per cento ovviamente se tu sei un imprenditore e hai una società e reinvesti di solito gli utili sono dei tassati poi ovviamente la legislazione cambia in questi anni è cambiata notevolmente se invece ti ritiri il dividendo a fine anno quindi l'utile fine anno viene tassato intorno al 15 per cento mentre invece le tasse personale sono al 21 per cento quindi tu paghi il 21 per cento di tasse sul su quello che guadagni all'anno quindi tutti sono tenuti a pagare le tasse famoso l'IRPEF che è il 21 per cento non mi sto dilungare su come vengono calcolate le buste paga anche perché esiste un bellissimo sito internet che si chiama www.tax.lt che è tutto in lituano quindi se volete andarlo a vedere fatelo magari con un produttore di google chrome attivato dove vi è addirittura un calcolatore automatico aggiornato all'ultima legislazione che dove voi mettete dentro il vostro stipendio lordo mensile o annuale e lui fa il calcolo di quanto prenderete voi netto e quanto dovrà pagare l'azienda e quanto costa il dipendente all'azienda quindi chiunque in maniera molto trasparente può andare online e vedere quanto gli offrono se è uno stipendio decente piuttosto che no ovviamente decente per voi per le vostre aspettative questo per quanto riguarda i dipendenti torniamo a fare la società una volta che voi avete aperto la società la società è subito operativa ok potete richiedere la partita iva se vi serve la partita iva ma addirittura se voi preventivate di non superare i 30 mila euro di fatturato l'anno potete anche operare senza avere la partita iva quindi è un regime fiscale leggermente diverso perché ovviamente l'iva la pagate ma non potete dedurla ok e per esempio per le importazioni e le esportazioni vi risulterebbe un po difficile fare qualsiasi cosa perché senza una partita iva e non essendo magari ischietti al vies che è il database internazionale delle partite iva non venite riconosciuti come una società attiva quindi potreste avere dei problemi per farvi dare dei listi di prezzi a livello internazionale ma vi è questa possibilità in lituania quindi potete se non superare o se prevedete di non superare i 30 mila euro di fatturato l'anno anche non avere la partita iva aperta io consiglio ovviamente sta secondo delle vostre esigenze se dovete fare delle cose internazionali con altre società o con altre società di aprire la partita iva l'altra cosa però da tenere conto è che se voi per tot mesi non utilizzate la vostra società quindi non fatturate vi chiudono automaticamente la partita iva perché loro dicono benissimo hai richiesto la partita iva ti abbiamo detto che se non superi 30 mila euro potevi anche non aprirla tu l'hai aperta poi non fatturi quindi perché te la tieni è un po strana come cosa però ha una sua logica dietro io non sto a contestare più di tanto perché a volte alcune scelte dei lituani non sono tanto capibili ma comunque hanno un senso logico e quindi sono così e quindi vanno rispettate questo è quanto per aprire una società poi ovviamente vi è come fare business lituania ma questo è tutto un altro discorso questo è un altro capitolo è un'altra cosa che magari vedremo come diventare dipendenti in lituania in un altro video ho voluto fare questo video per farvi capire che aprire una città in lituania ci si mette pochissimo due o tre giorni si risparmi un sacco con le tasse non ci sono anticipi su tasse non ci sono posticipi non le regole non cambiano ogni due per tre ecco questa è un'altra cosa che io tendo a sottolineare le tasse sono zero o comunque dal 5 al 15 per cento quindi veramente molto bassi live il 21 per cento il capital gain è dallo 0 al 15 per cento e le tasse personali sono il 21 per cento quindi uno stato leggero che non dà grossi problemi non è uno stato leviatano che ha il fiato sul collo tutte le volte e cambia le regole ogni due per tre però attenzione bisogna comportarsi bene da queste parti non si può fare furbi non si possono evadere le tasse perché qui ho visto gente andare veramente in galera per l'evasione fiscale non come in italia dove c'è gente che fattura tanto e vada cinquanta centomila euro e poi vabbè tutto finisce per il luccianino qui no qui non si non si scherza e comunque si possono fare dei buoni affari ci sono qui delle persone che io conosco che hanno in implementato dei buoni business fatturano bene sono contenti e ovviamente fanno avanti a fare il loro business senza nessun problema chiaro fare business da queste parti non è semplice ma questo è un altro discorso e lo vedremo la prossima volta spero di esservi stato utile se avete delle domande scrivetele qua sotto nei commenti ricordatevi di fare subiscrivere al mio canale accendere la campanella fare share se vi è piaciuto questo video come aprire una società in lituania e alla prossima